3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi ragazzi Oggi siamo ritornati al più buonissimo video Questa è la prossima di 10 video Cosa metto nel mio zaino? Il primo giorno di scuola Ebbene si raga Domani sarà il mio primo giorno di scuola Di seconda media E sono emozionatissima Però quest'anno Stranamente Non sono tantissima in ansia Perché questa è la sera prima di andare a scuola E raga sono entusiasta Però non troppo Cioè sono contenta ma non troppo Ma non per iniziare a scuola È proprio per iniziare ad avere una routine Bella Come si dice? Bella Ordinata o tutto quanto Però per il resto potrei stare anche a casa Quindi la scuola no Però si perché la scuola serve Ci aiuterà in un futuro prossimo Quindi niente raga Noi siamo Allora Lo zaino in questione di quest'anno Sarà quello dell'anno scorso Quest'anno dentro lo zaino Andrà lui Perché raga Lui è la cosa più bella del mondo C'è lei Oppure lui Come la voglia di fare Poi Ah Devo fare una cosa Che non posso far vedere nel video È pienissima Cioè voi avete visto quel che ho messo Però io ne ho aggiunto Ho messo tipo questa Che è una gomma elettrica Ed è bellissima E l'adoro E spero che non faccia tanto rumore A scuola E poi comunque A inserirlo nel nostro bello Nel nostro bel zaino Vabbè avete capito Nel nostro bel zainetto E niente raga Comunque pensando Cioè io forno in seconda media Non sto andando In prima elementare Cioè ma scendiamo punto Cioè l'anno prossimo Raga io penso sempre al futuro Pensate cioè Io sono proprio Cioè raga Pensate che l'anno prossimo Dovrò fare l'esame di terza media Vabbè lasciamo stare Comunque quest'anno A parte i libri delle vacanze Qui dentro Dovrò portare Due Tre Cioè no Due Tre libri Tre quaderni A righe Però in realtà raga C'è un problema Mi sono scordata di comprarli Quindi li ho dovuti prendere Un po' Di tre anni fa Se li avevo anche scordati Però sono sottilissimi Per questo Cioè Cioè Per questo no Però li ricompreremo Poi Ne mettiamo Questo è lo suono Poi Questo quaderno stupendo Che avete visto anche Il back to school Per chi non l'ha visto Finite di vedere questo video E fatevi vedere Subito il back to school Che abbiamo fatto Allora raga Questo è il quaderno Ed è stupendo Cioè io ne vorrei 50 Così E questo invece È a quadretti Domani Comunque raga Non uscirò Io esco alle 2 Però quest'anno Esco A mezzogiorno Per ora Comunque Prossima cosa Il portapastelli Che non può mancare Raga Io l'aduro Perché è pienissimo Io amo queste cose Di cartoleria Di cartoleria Ok E quindi inseriamo anche lui Che non ha Un new entry Nella Nello zaino Poi sempre Poi sempre come new entry Il mio diario Per chi non ha visto Il video Andatelo a vedere Quindi Ed è bellissimo Quest'anno ho preso Total white E anche un po' Di rosè Che non può mancare Mai il nostro rosè Comunque è abbastanza buco Non va bene Non va bene E invece in questa tasca Domani mattina Metterò I salatini Perché comunque Cioè io Merenda Non è che ne faccio tanta Poi metto Anche l'acqua Che l'acqua Che in realtà Ho messo di là Quindi La metto Domani mattina Mettiamo il sun gel Che non può mai mancare Non lo so come lo voglio mettere Perché questo è un bel po' grande Cioè che fa È un po' ingombrante Vabbè Lo mettiamo qua E poi qui Ho messo due mascherine di riserva Perché in caso Dovelo Cioè Rovinare Oppure bagnare Ragazzi È successo un sacco di volte Questa maschola Oppure Rompersi Abbiamo sempre Due mascherine Ascolta Nel mio porto Mascherine Rosè Che non può mai mancare Rosè Niente raga Questa Abbiamo concluso Lo zaino Anche quest'anno E ce ne sarà Uno Ancora Cioè Nel corso dell'anno Ce ne sarà Questo zaino Da come È così sottile Diventerà la cosa più grande Del mondo Perché i libri Sono pesanti Ragazzi E li dobbiamo dire E per quanto vogliamo Leggerirlo E provare a leggere No I libri Sono Un peso E quindi niente raga Quest'anno vi ricordo Che inizierò La seconda media Iniziamo con potenza Forza Quindi mi raccomando Anche voi Magari so che anche In altre regioni Iniziate il 24 Beata voi Beata voi Perché io Ho il 15 Il mio compleanno Quindi il secondo giorno In scuola Top Benissimo E niente raga Questo è lo zaino Diamoci forza A tutti quanti Niente Io vi mando Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao